L'arresto di Gennaro Marsiglia nell'ambito dell'operazione Appalto Amico ha fatto saltare le procedure di reclutamento in convenzione di un responsabile finanziario ed amministrativo avviate dal comune di Maierà insieme ai municipi di Buonvicino, Fagnano, Castello e San Sosti. Il dirigente era tra gli aspiranti a ricoprire quegli incavi come la bufera giudiziaria che lo ha travolto e ha indotto i sindaci di Fagnano e San Sosti a sfilarsi alla luce dell'inchiesta coordinata dalla procura di Paola e condotta dalla Guardia di Finanza. Come mai il comune di Fagnano ha deciso di sfilarsi da questo rapporto che inizialmente aveva stretto col comune di Maierà? Alla luce delle indagini in corso è un atto doveroso. Noi abbiamo piena fiducia nella magistratura, crediamo ovviamente nella presunzione di innocenza. Perché la revoca? Perché il responsabile del servizio finanziario l'avrebbe scelto il sindaco del comune di Maierà attraverso un avviso pubblico. E alla luce di quello che si sta profilando noi al momento non possiamo avere alcuna fiducia con tutto il rispetto che ovviamente ho nei riguardi del collega del sindaco di Maierà. I sindaci di San Sosti e Fagnano non hanno voluto correre il rischio di ritrovarsi in uno degli uffici chiave della loro amministrazione, un indagato per corruzione turbativa d'asta. I comuni di Maierà e di Buonvicino sono invece decisi ad andare avanti ed hanno deliberato l'adozione di una nuova convenzione, questa volta insieme al comune di Santa Domenica Talao. Nei prossimi giorni, in piena estate, procederanno quindi alla pubblicazione del bando e non vi è dubbio che l'esito sarà particolarmente atteso. Salvatore Bruno per la CNews24